Ad Agrigento, venerdì prossimo, 8 aprile, nella Valle dei Templi, a Casa San Filippo, dalle ore 16.30 in poi, si svolgerà il Congresso Provinciale di Agrigento dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia. Ascoltiamo in proposito il coordinatore, il senatore, Angelo Lauricella. Ad Agrigento, venerdì 8 aprile, dalle 16.30 in poi, a Casa San Filippo, il Congresso Provinciale dell'AMPI, l'Associazione dei Partigiane d'Italia di Agrigento, il coordinatore della stessa associazione e il relatore al dibattito, il senatore, Angelo Lauricella. Sì, noi venerdì svolgiamo un bilancio di 5 anni di attività. C'è stata 5 anni fa una svolta che ha consentito ai non combattenti di entrare e di dirigere l'Associazione dei Partigiani e da quella svolta noi stiamo cercando di radicare nel territorio agrigentino quella associazione per, naturalmente, prima di tutto, portare avanti un'idea del ricordo, del recupero di questi anni di storia e del modo in cui si è partecipati in provincia di Agrigento. Perché anche la provincia di Agrigento ha fornito migliaia di combattenti alla guerra partigiana. Alcuni caduti, altri per fortuna hanno avuto lunghe vite come Totò di Benedetto che è stato uno dei capi della resistenza italiana. Quindi stiamo facendo questo ricordo del recupero della memoria, per noi importante, perché la memoria è un antidoto, una specie di vaccino a che certe cose che si sono verificate, quindi la dittatura, le stragi nazifasciste, l'occupazione del Paese, la divisione dell'Italia, non possano più verificarsi. Vogliamo trasmettere tutto questo alle nuove generazioni e in questi anni siamo andati nelle scuole a parlare della resistenza, a parlare dei combattenti della provincia di Agrigento, siamo andati anche nei comuni a farlo per iniziativa delle amministrazioni comunali e poi negli ultimi tre anni vi è stato questo accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ANPI per la che è culminata in una manifestazione che c'è stata alla Camera dove i partigiani sono stati ricevuti e lì da Mattarella alla Presidente della Camera cantavano bella ciao, è stato uno spettacolo, voglio dire, che ha un valore importante per l'insieme del Paese. E qui anche noi siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato con gli studenti, abbiamo proposto elaborati, abbiamo proposto iniziative, abbiamo detto dipingete, fatela qualsiasi per ricordare, ma soprattutto andate nelle vostre famiglie e parlate con quelli che sono stati nella resistenza. Noi pensiamo ci sia stato... È utile ribadire che non solo quelli che sono stati nella resistenza, gli ex partigiani sono ammessi all'Associazione. Esatto, sì, certo. Noi pensiamo che abbiano commesso degli errori i vecchi partigiani, nel senso di considerare combattenti solo quelli che hanno combattuto. È stato sottovalutato il loro delle donne, ma senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza perché li avrebbero presi tutti, perché sono quelle che hanno costruito la solidarietà e hanno consentito i rifornimenti e le informazioni ai combattenti. Quindi abbiamo una rivalutazione delle donne, una rivalutazione dei militari. Vi erano, dopo lo sbandamento dell'8 settembre, alcuni milioni di militari. Di questi 650 mila sono stati portati nei campi di concentramento tedeschi perché si sono rifiutati di combattere nella Repubblica di Salò. Ricordi in sintesi, coloro che interverranno venerdì al dibattito dell'Ampio. Sì, intanto io svolgerò la relazione, Elvio Ruffino del Comitato Nazionale che svolgerà le conclusioni, i rappresentanti del mondo sindacale, i sindaci che sono stati invitati alla manifestazione e gli iscritti che in questi anni si sono via e via associate. Si tratta di giovani e l'Ampi è diventata un'associazione di giovani nella provincia di Erigento e prima o poi bisognerà rinnovare gli anziani come me che stanno svolgendo questa funzione di costruzione. Sulla funzione che noi vogliamo svolgere in futuro è una funzione di catalizzatore del dialogo e della elaborazione politica. C'è un distacco oggi tra forze politiche, sindacati, amministrazioni comunali, istituzioni. Noi pensiamo che c'è stato nel passato, soprattutto c'è bisogno ora di fronte alla crisi, mettere assieme un pensatoio a cui le organizzazioni sindacali, le amministrazioni comunali, le istituzioni in genere possono elaborare una politica che ci consenta di uscire da questa crisi che stiamo attraversando.